È un messaggio del dialogo, di apertura e svegliare l'ottimismo della nostra società che purtroppo siamo una società piena di indifferenza. Ho scelto Napoli perché penso anche il mio ottimismo, sono cittadino anche albanese, somiglia molto al popolo mediterraneo dove le nostre energie e l'umiltà si riuniscono insieme e questa città grazie sempre ai cittadini napolitani sarà il messaggio che inizia e andiamo nelle altre città, Firenze, Parigi, Madrid. Key of Today è il nome della scultura dell'artista di tolo albanese che da questa mattina campeggia in piazza Mercato dove rimarrà per tre mesi. Un luogo simbolico per parlare di storie di integrazione. La chiave apre le porte ma è contorta a causa delle resistenze mentali e politiche. Un messaggio universale di rispetto reciproco è un incoraggiamento a superare paure individuali e collettive. L'auspicio di una società aperta al dialogo è alla potenzialità di tutti eliminando barriere e pregiudizi. È la chiave del dialogo, dell'accoglienza, della relazione tra i popoli con grande riferimento al Mediterraneo ma chiaramente questo è un messaggio globale. Noi abbiamo accolto questa installazione di Milo che è un grande artista internazionale. Napoli è la prima città del mondo che accoglie questa installazione che poi girerà per tutti i continenti. È un messaggio forte da Napoli che parte di unità, dialogo e fratellanza tra i popoli. Napoli è una città di grande capacità anche culturale, di grande talento, di grande creatività. Adesso la nostra sfida è fare in modo che analizzare questa grande creatività in un momento positivo per la città per fare in modo che sia fattore di crescita per tutta la nostra comunità.